Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Mario il coach, si hai letto bene con un solo movimento oggi il coach ti fa vedere come allenare tutti i gruppi muscolari e anche in maniera intensa quindi questo ti fa capire che non sarà un movimento facilissimo ma come sempre tu dai un'occhiata a questo esercizio dopodiché subito dopo proverò a spiegarti almeno le più piccole cose per evitare di farti male e comunque seguirlo bene quindi ci vediamo un pochettino più in là allenati bene? Grazie a tutti Beh ragazzi com'è questo esercizio? Sì sì lo so è un po' avanzato ma ogni tanto ci sta che vi spingo in qualche esercizio per quelle persone un po' più allenate che dici comunque tieni conto che tutto è scalabile tutto si può adattare in base al proprio livello alle proprie capacità fondamentale in questo esercizio cercare di mantenere sempre forti e contratti gli addominali quindi non perderli mai altrimenti la schiena si flette troppo ovviamente riscaldarsi benissimo specialmente sulle articolazioni delle spalle perché vengono sollecitate moltissimo specialmente nelle rotazioni che si fa in questo esercizio ok spero che questo esercizio questo allenamento lo farai se lo farai mi lasci in giù un commento oppure al massimo metti un bel like oppure proprio se ti va ti iscrivi al canale io ti ringrazio di essere stato qui con il coach e se ti va di conoscervi meglio ti lascerò qualche piccolo pensiero qua giù di lato o di qua no te lo lascerò di qua ok ragazzi mi raccomando allenatemi bene ciao! grazie per essere qui ragazzi queste sono delle piccole info per conoscere meglio il coach questo è il mio sito dove all'interno di questo sito troverai un blog troverai ricette troverai video troverai schede allenamento troverai tutorial tutto questo è completamente gratuito troverai all'interno nutritionista terapista farmacista il coach anche questo tutto completamente gratuito prenotare oppure abbonarti tutto questo completamente gratuito ci sono lezioni base così come pacchetti un po avanzati oppure tutto questo lo puoi fare con la mia app ancora meglio tutto comodamente da un'app quindi da qui non ti potrà sfuggire mai nulla e se proprio o ti vuoi aggiungere se sei un telegrammaro questo è il mio canale telegramma ti ringrazio di essere passato da qui e mi raccomando continuo ad allenarti ciao! 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 ciao!